Buongiorno a tutti, allora concludiamo le schedine e bollettine del Gigione con il campionato tedesco. 8 sono le partite perché Ausburg-Mainz non si gioca perché quelli dell'Ausburg sono tutti covidizzati, ce ne erano 18-19 settimana scorsa, anzi 18 della squadra più l'allenatore, 19. Quindi se la settimana saltano ancora le partite dovrebbero iniziare teoricamente a recuperarle il 16, teoricamente, vedremo, vedremo. Comunque, partiamo subito con la schedina. Union-Berlino-Stoccarda 1x, Friburgo-Vosburg 1x, Ofenheim-Bayern-Monaco 2 sperando che il Bayern non gliene rifi di 7 come i poveracci del Salisburgo. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino 1x, Bayer-Leverkusen-Colonia 1x, Borussia-Dormner-Arminia-Bilfeld 1x, Eintra-Fracconforte-Bokum 1x ma volendo si potrebbe anche rischiare l'1x, e infine Greuther-Furt-Lipsia 2x. Schedi in alternativa, Union-Berlino-Stoccarda over 1,5x, Friburgo-Vosburg over 1,5x, Ofenheim-Bayern-Monaco, gol, Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino gol a mio rischio e pericolo, Bayer-Leverkusen-Colonia over 2,5x, Borussia-Dormner-Arminia-Pilifeld over 2,5x, Eintra-Francoforte-Bokum over 1,5x, Greuther-Furt-Lipsia over 2,5x. Andiamo a vedere il Gigione, che partite ha scelto? Allora ho scelto Ofenheim-Bayern-Monaco, Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, Bayer-Leverkusen-Colonia e Eintra-Carmina-Bilfeld. Quindi partiamo subito con la bolletta delle fisse. Ofenheim-Bayern-Monaco, 2, Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, 1, Bayer-Leverkusen-Colonia, 1, Eintra-Carmina-Bilfeld, 1, con 5 euro se ne vincono, 37,29. Bollettino numero 2. Ofenheim-Bayern-Monaco, multigol ospite, 2,4, sperando che il Bayer non ne faccia 6, 7, 8, 12, 25, 250. C'ho gli spennacchiotti che spuntano. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, multigol casa, 2,4. Bayer-Leverkusen-Colonia, multigol casa, 2,4. Eintra-Francoforte, Arminia-Bilfeld, multigol casa, 1,3. Voglio stare schiscio, però se volete potete rischiare il 2,4 anche qua. Con 5 euro se ne vincono, 24,68. Bollettino numero 3 con ben tre opzioni oltre al base, perché il base paga troppo poco. Ofenheim-Bayern-Monaco, x2 più over. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, x2 più over. Bayer-Leverkusen-Colonia, 1,x più over. Eintra-Bokum, 1,x più over. Con 5 euro se ne vincono, 16,08. Gli over, come sempre, sono over 1,5. Siccome è poco. Un'anticchia. Opzione 1. Ofenheim-Bayern-Monaco, 2, più over. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, 1,x più over. Bayer-Leverkusen-Colonia, 1,x più over. E Eintra-Bokum, 1,x più over. Con 5 euro se ne vinto, con 20,59. Sono ancora un po' pochini. Opzione numero 2. Come il viperetta. Ofenheim-Bayern-Monaco, 2, più over. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, 1, più over. Bayer-Leverkusen-Colonia, 1, più over. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, 1,x più over. A scanso di equivoci. Poi Bayer-Leverkusen-Colonia, 1, più over. Cioè, 1, più over. Meglio se è un replay, che ho fatto un macello. Opzione 2. Ofenheim-Bayern-Monaco, scusate un attimo. Perché se no poi mi fa lo scherzettino. Ofenheim-Bayern-Monaco, 1, più over. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, 1,x più over. Bayer-Leverkusen-Colonia, 1, più over. Eintracht-Bokum, 1,x più over. Con 5 euro se ne vincono 27,12. Non vi bastano? Opzione numero 3. Ofenheim-Bayern-Monaco, 2, più over. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, 1, più over. Bayer-Leverkusen-Colonia, 1, più over. Eintracht-Bokum, 1,x più over. Con 5 euro se ne vincono 36,75. Opzione base, opzione 1. Opzione 2 per i coraggiosi. Opzione 3 per i Braveheart. Bollettina numero 4, che a me fa libidine. Ofenheim-Bayern-Monaco, gol casa. Borussia-Montchenblabba-Kerta-Berlino, gol ospite. Bayer-Leverkusen-Colonia, gol ospite. Eintracht-Bokum, gol ospite. Con 5 euro se ne vincono 15,16. Nanticchia, nanticchia, lo so, è nanticchia. Vedete voi. A me fa libidine quella gol casa, gol ospite, quindi la gioco sempre. Però in questo caso diciamo che viene fuori la pubblicità. Ti piace vincere è facile, ma non ti pago un cazzo. Scusate il francesismo. Proseguiamo con la bollettina numero 5, che mi tocca fare le imitazioni e direi di andare di... Allora, l'ultima volta ho fatto Jerry Calat. Quindi direi di andare di... Pozzettone... Pozzettone. Però adesso devo decidere quale pozzetto. Se fare il tac o la madonna. E la madonna, e la madonna, sì, sì, sì. Offenheim-Bayern-Monaco, gol piuver. E la madonna. Borussia-Montchenblabba-Carta-Berlino, gol piuver. Madonna. Bayer-Leverkusen-Colonia, gol piuver. E la madonna. E Eintracht-Bokum, gol piuver. La madonna! Con 5 euro se ne vincono solo, perché con i gol piuver di solito si arrivano a 75, 80, 100 euro. Proprio perché sono strafavoriti. Si vincono solo 43,57 euro. Che poi uno dice otto volte e mezza alla posta, non è poco. Però, per il rischio, però sono partite che dovrebbero regalare gioia. E infatti la bollettina numero 6, che di solito è veramente folle, stavolta è abbastanza favorita. Offenheim-Bayern-Monaco, due più gol. Borussia-Montchenblabba-Carta-Berlino, uno più gol. Bayer-Leverkusen-Colonia, uno più gol. Eintracht-Bokum, uno più gol. Con 2 euro se ne vincono 118,05. Con 5 euro 295,14. L'unica partita in cui il gol non è favorito è Eintracht-Francoforte-Bokum, ma c'è una differenza di 0,35. Io l'ho fatta lo stesso la bolletta con uno gol. Quindi Offenheim-Bayern-Monaco, due più gol. Borussia-Montchenblabba-Carta-Berlino, uno più gol. Bayer-Leverkusen-Colonia, uno più gol. E Eintracht-Bokum, uno più uno gol. Con 2 euro se ne vincono 106,57 contro i 118. E con 5 euro se ne vincono 266,44 contro i 295. Questo per farvi capire che differenza infinitesimale c'era. Diciamo che è una giornata del campionato tedesco che dovrebbe regalare, anche se purtroppo sono solo otto partite, da Butto-Li. Minimo 24 gol. Con otto partite. Minimo 24 gol globali. Poi vedremo perché questi, quando c'è la giornata che non devono segnare, perché sembra che ci siano solo Under, 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 fanno le partite in stile PSV-Kopenhagen. Quando ci sono le giornate in cui, figurati, questi 30 gol come bere un bicchier d'acqua, arrivano a 18-20 al massimo con una marea di 0-0 che ti girano i testi a elica. Perché una volta il campionato tedesco era una libidina. Gli anni passati era una libidina, lo giocavo spesso, proprio perché over 1,5 come se piovesse. Over 1,5, qualche over 2,5 ogni tanto quando c'erano le partite un attimino della Super B contro la piccolina. Prendevi come pescare dalla vasca delle trote. Ecco, per intenderci. Ultimamente invece stanno facendo un po' i malefici. E fanno il braccino. Quando devono segnare, fanno il braccino. Quando invece non devono segnare, esagerano. Sembra che si mettano d'accordo con i bookmaker. Vabbè, detto questo ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio. Speriamo sia una giornata prolifica di gol nel campionato tedesco. E ci vediamo alla prossima. Ciao!